Il paradiso, trame autunno, Ludovica Flora potrebbe conquistare Marcello. Tante novità sono in arrivo nelle nuove puntate autunnali del Paradiso delle Signore. Durante la scorsa stagione della fiction, Ludovica ha spezzato il cuore di Marcello. Rincorrendo il suo sogno d'amore con Enrico Ferdinando Torrebruna. Marcello. Che durante la relazione con Brancia è sempre stato pensieroso sulla loro differente situazione economica. Ha iniziato a intraprendere un percorso nel mondo della finanza durante la nuova stagione del Paradiso delle Signore. In modo tale da poter dare delle dimostrazioni a Ludovica una volta tornata. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Brancia farà ritorno a Milano. Ma potrebbe trovare un Marcello diverso da quello che ha lasciato. Una diversità non solo caratteriale. Visti i nuovi interessi del ragazzo, ma anche sentimentale. Durante le prossime puntate. Infatti, inizierà a nascere un rapporto sempre più intimo tra Marcello e la stilista Flora. Da quando Umberto ha lasciato Adelaide, per vivere la sua relazione con Flora. La contessa ha tentato in tutti i modi di dare del filo da torcere alla stilista. Di Sant'Erasmo puntava a far licenziare Flora dall'atelier, ma non è riuscita ad arrivare al suo scopo. Tra la stilista e Adelaide è nata una battaglia, dentro la quale è finita anche Maria. Aspirante stilista. Per paura che Puglisi potesse rubarle il lavoro, Flora ha iniziato a metterle i bastoni fra le ruote. Durante le ultime puntate andate in onda, Flora ha deciso di troncare la sua relazione con Guarnieri. Accusandolo di volerla far diventare perfida come la contessa Adelaide. Dopo la rottura, la stilista inizierà ad avvicinarsi sempre di più a Marcello. Flora si confiderà con Marcello e gli rivelerà le sue pene d'amore. Inoltre Flora saprà bene che Marcello potrà capire i suoi sentimenti, in virtù della delusione sentimentale con Ludovica. Man mano il rapporto tra i due potrebbe andare a intensificarsi. Le anticipazioni delle nuove puntate della SOP rivelano che ben presto Ludovica Brancia farà il suo ritorno a Milano. Dove sarà convinta di trovare ancora Marcello. La vita sentimentale di Barbieri potrebbe però subire un grande cambiamento prima dell'entro di Ludovica. Il rapporto con Flora potrebbe intensificarsi sempre di più, fino a diventare un nuovo amore. Molto probabilmente Brancia al suo ritorno troverà una situazione completamente diversa rispetto a quella che aveva lasciato prima della sua partenza.